Ancora una giornata di controlli nella zona industriale della Carbonaia alle porte di Arezzo che si è conclusa con il sequestro di un fuoristrada di contrabbando. La polizia stradale di Arezzo infatti questa mattina ha effettuato un massiccio controllo poco fuori della città al fine di neutralizzare le condotte di guida distratte che ormai costituiscono la principale causa degli incidenti. I poliziotti così con l'ausilio del personale ANAS hanno chiuso il raccordo tra Arezzo e Battifolle in direzione del casello A1 in modo da canalizzare tutti i veicoli compresi i tir all'interno della Carbonaia e controllarli accuratamente. Le pattuglie della polizia hanno utilizzato anche il Targa System, un sofisticato apparecchio che ha letto al volo ben 2140 veicoli, praticamente tutti quelli che sono transitati dall'area. I risultati sono stati soddisfacenti, commenta la polizia stradale, tant'è che presto ci sarà una replica. Le persone controllate sono state 82, mentre 2.118 i veicoli con 15 conducenti sanzionati, due patenti ritirate, 15 punti decurtati ed infine quattro veicoli sequestrati. Di questi tre erano senza assicurazione, mentre uno aveva la Targa Svizzera ma il suo proprietario non aveva regolarizzato la circolazione in Italia. In buona sostanza il veicolo un fuoristrada non era stato sdocanato per eludere l'erario.